presentata lo scorso 29 agosto presso la Taverna Ducale di Popoli la mostra dell'artista pratolano Silvio Formichetti nell'ambito dell'evento Pitture e Musica, Arti Sorelle. Organizzato dalla sovraindendenza ai beni storici, artistici e etno-antropologici, l'evento ha avuto il sostegno del comune di Popoli. La mostra raccoglie 15 opere che Formichetti ha realizzato nel periodo che va dal 1998 fino ad oggi. Sono intervenuti all'inaugurazione anche il musicista Luca Zavarella, la sovraindendente Lucia Arbace e Marcello Lucci che ha moderato il dibattito. Sono stato chiamato per rappresentarmi in discorso antologico appunto fino al 30 settembre, probabilmente questa esposizione avrà un percorso itinerante, non so dove, comunque credo nell'ambito del comprensorio Peligno, invito appunto tutti quanti a visitarla. Grazie a tutti.